Ed è con grande orgoglio che quest'oggi siamo qui a Cannes con il Presidente, per me rimani il Presidente Marco. Grazie, grazie perché no, ormai Presidente di tantissime cose, se non mi dici Presidente non ti rivolgo alla strada. Con una bella bandiera tricolore perché questo WICF, che è il World Artificial Intelligence di Cannes, è totalmente, possiamo dirlo, tricolore, creato, ideato da una mente italiana ma comunque con prospettive internazionali, mondiali. Raccontaci un po' come nasce l'idea di questa conferenza. Allora, guarda, molto brevemente, quando io ero Presidente della Texas Instruments e poi dell'Apple, qui c'era un congresso, quello del Mobile Congress, che era un evento a cui dovevo partecipare annualmente, perché far venire i clienti a Cannes non solo era un piacere, questi erano super contenti di venire, ma avevo la possibilità veramente di incontrare qui la crema dei miei clienti, mostrare nuovi prodotti, parlare di tutte le iniziative che noi avevamo, quindi era un qualche cosa a cui ero completamente affezionato. Ha avuto un grande successo, è partito per Barcellona e quindi qui Cannes non ha più avuto qualche cosa di tecnologico che potesse essere significativo. Fanno dei bellissimi congressi, ma la parte tecnologica mancava. Bene, mi è venuta questa idea. Lavoravo con il Dipartimento sulla numerizzazione del Dipartimento, abbiamo creato la Casa dell'Intelligenza Artificiale, è un problema che è venuta questa idea di dire, ma perché non rifare quel Mobile Congress, ma non sul Mobile, sull'Intelligenza Artificiale, qualche cosa che non esiste. Ne ho parlato al Presidente del Dipartimento, mi ha detto, vai, mi ha detto, vai, subito ti presento io al Sindaco di Cannes. ci sono andato, mi dice, fantastico, lo dobbiamo fare. Quindi ho trovato che questa idea cadeva su un terreno che era completamente fertile. Quasi si dicevano, ma perché questa idea non viene fuori? Perché non prima, perché non ha qualcun'altra. è venuta fuori e devo dirti che ho avuto un supporto eccezionale, poi ho avuto anche la fortuna nella scelta di chi andava a realizzarlo, di trovare questo Corp Agency, che voi avete potuto vedere. è il primo, poi con il Covid, la guerra, la Cina che è praticamente bloccata, vacanze di Pasqua, l'ha dovuto mostrare dal febbraio ad aprile, ma insomma, ieri mi hanno detto che ci sono state più di 3.000 persone. Sì, bellissima. Abbiamo visto infatti tanta partecipazione, noi abbiamo fatto un giro, la fiera dura 3 giorni, il festival dura 3 giorni, 14, 15, 16, tantissime grandi aziende, è una risposta davvero interessante, tante start-up, no? Ma guarda, ieri ho potuto presentare a Juan Lecan, che è il massimo dell'intelligenza artificiale, come sapete, è quello che ha preso praticamente il premio Nobel dell'intelligenza artificiale, il premio Alan Turing, e avere lui qui, che stamattina ha inaugurato la seconda giornata, avere Huawei che si dice mai cinesi, sono venuti lo stesso, Sense Time, non so se avete visto la parte di Sense Time, ma è eccezionale. E poi, start-up, qui nel padiglione, quello che io chiamo Village Italia, ci sono 12 start-up. Nel padiglione del dipartimento ci sono 24 start-up, tutte negli A. È un successione, non ancora, avremo ancora più successo, ma è un buon inizio. Una grande prima edizione. Assolutamente. Decisamente, decisamente. Allora, Marco, a breve ci sarà questa premiazione delle start-up, raccontaci qualcosa in più. Allora, intanto c'è già stata ieri la premiazione dell'Istituto Europa, che io ho creato, dove abbiamo creato un giurì, composto da tutti quelli che sono gli aderenti dell'associazione, consiglio di amministrazione, istituzioni, e abbiamo dato il premio a una bellissima statuetta che rappresenta l'Istituto Europa e il presidente Ginesi l'ha data proprio ieri. Ma siamo a Cannes, parliamo di festival, c'è la Palme d'Or, abbiamo anche creato Cannes Neuron, la Palme d'Or del festival. E al mezzogiorno e mezzo, come vi lascio, andiamo a dare questo premio, che è un po' il simbolo di tutto questo festival, che oggi all'inizio sta sbocciando, ma direi che dei bei fiori verranno presto. Assolutamente, ne siamo convinti, se siete ancora in tempo, fate un salto qui a Cannes, o comunque scopritelo, perché stiamo girando tante interviste. Ed è anche online, basta scaricare l'app Wycf22 sul vostro store. Grazie Marco, davvero complimenti. Buon lavoro, e speriamo di continuare una bella cooperazione. Grazie, sicuramente. Grazie. Grazie.